Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Sparks Oggi proveremo a vincere la ranked, la nostra prima ranked su StumbleGuys Ovviamente ci vorrà la forza di tutti voi con i like, le iscrizioni, tutto ciò che potete fare per supportare questo canale Per poter portare a casa questo premio stuccoso Inoltre vi ricordo che da poco abbiamo raggiunto i 200.000 iscritti Adesso la ROAD diventa ROAD di 300.000 Quindi mi raccomando, non arrendiamoci e continuiamo a crescere Perché siamo una delle comuni più belle d'Italia, non la ma una delle Detto questo ragazzi mi raccomando, come ho detto prima iscrivetevi al campione di attiva Commentate qui sotto e fatemi sapere se anche voi avete partecipato a una ranked o se ne avete vinto qualcuna Condividete questo video con i vostri amici e sigla! Adesso ci voglio impegnarmi alla ranked Vediamo se riusciamo a portare un risultato decente nella ranked, va bene? Ma un head drop la sto rivalutando Ma perché sempre sto spaxismo? Ma sempre da dietro! Ma veramente non se ne può più Parli che me lo fa a posto ormai Ok mi sono ripreso il campo dai Bustiamoci qua di velocità E' solo qua il Drax E' buono il punto l'abbiamo fatto Qualifica In teoria siamo già qualificati Ma la sapete che cosa è successo ieri tra Spagna e Portogallo ragazzi? La Coppa del Mondo Spagna-Portogallo Erano gli ottavi Ma sapete che è successo? Secondo voi chi ha vinto e quanto hanno vinto? Vediamo chi indovina Allora la Spagna Ha battuto il Portogallo Per 10 a 0 La Spagna è qualcosa di pazzesco Non sto scherzando Allora ve lo mostro Vi mostro il Discord Così vedete anche voi Non hanno giocato poi con gli M Per poi perdere 10 a 0 Almeno si potrebbero fare una vittoria con le SX Cavaletta Ma dobbiamo stare attenti Oh il Cavaletta Uuuuuh Non riesco a superarli C'è Nutellini Nutellino vai Lo so prima a un certo punto Non ci credo Uuuuuh Dai non ci credo Va 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 Spagna 10 Non toccalo 0 Il Ranked non è per le Gemme È per avere quella doppia V nel nome diciamo È per la P 1 e 3 Oh si parte davanti Stavolta incredibile Guardalo come piotta Guardalo Ma che Ma ha sbattuto la porta in faccia La palla Boing Permesso 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 Grazie Oli Grazie per i 2 euro ancora una volta Per i 2 CHF Bello sto primo posto Vai Buono Uuuuh Blocco di asce Bellissimo Il blocco delle asce Ma non si può votare qua il calcio pugno Vero no 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 Tutto bene grazie Micheluz Micheligno anzi Tutto è Micheligno Non può essere Micheluz Non possono essere Praintesi porca paletta Che rischio Ma ti blocchiamo? Ma che cavolo è passato Mi è passato attraverso Ghost Oh My Love My Darling Tutu Sì ma porca paletta Levatevi Oh Ma Ma Sì um Era tutto calcolato Capito? Era tutto calcolato Ho fatto finta Che devo non sapere che stava succedendo Quante C'erano 70 persone Che mi spingevano Che fastidio Il karma ha parlato Icey AIDS No è cattiveria È tutto buggato Icey AIDS È cattiveria E leva di burco paletta Scheletrino del cavolo Ma vatta a fare Altra cosa Ma veramente Guarda sto scheletrino E mi spinge Ma io non ci credo Vabbè ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio No Lava land No Pure in testa Vendo camminare Ora mi metto La skin di super sparks Ok qua ne cadono due No da qua c'è Una confusione Capaletta Qua andiamo tutti in finale E casco sicuramente io Per bodyblock 100% Mo vedete No È lontanissimo Oh Qualificato No Paint splash Allora Scommettiamo che parto da sinistra Vedi che è sinistra AIDS AIDS Ha cambiato lato Allora Vabbè ce la possiamo fare Stavolta Che è su Gachi Che mi sta dando fastidio Tantissimo Prova a infastidirmi tantissimo Ma abbiamo Ci siamo già distaccati Se giochiamo Shally Senza che ci facciamo un po' di bloccata Qualcuno qua Porca paletta Vai Vai Gira la ruota Tutto Vai 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 Uh Ma che stile Ma che Ma che stile Ma che stile di win Questo sta partito ora L'ho del ritardo Siamo in finale È finale veramente Uh L'Avalent Mi concentro un attimo Ragazzi Perché potrei subire Bodyblock Quindi devo concentrarmi Leggermente Sicuramente Saranno gente forti Questi qua Meglio soli Ma Ok Sì sì vai Ammazzatevi tutti Concentratissimo Scatto di laggo Occhio Ho rischiato tantissimo Ma devo saltare a forza Così Ma porca paletta Elevate Oh Occhio Ok Ok Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Se vince sull'Avoland Vinto io Screeniamo Rimane nella storia Screeniamo